Ciao a tutti, sono Alba Chiara, figlia del fotografo varesino Vivi Papi. Oggi vi racconterò la mia prossima avventura. Venite con me! Oggi vi racconterò la mia prossima. Oggi vi racconterò la mia prossima. Oggi vi racconterò la mia prossima. Patrimonio dell'UNESCO. Oggi vi racconterò la mia prossima. Oggi vi racconterò la mia prossima. Oggi vi racconterò la mia prossima. La mia prossima. Ed è proprio da qui che partirà la mia prossima avventura. Un viaggio alla riscoperta dell'Italia. Viaggio effettuato dallo stesso Vivi Papi nel 1955. partendo da Varese con la sua famiglia è sceso fino a Roma, sostanto in tante città. ripercorrerò parte di questo viaggio in bici con la mia famiglia e riscoprerò i monumenti e le città percorse da un nuovo punto di vista. Siete pronti? Seguitevi, seguitemi. Ci vediamo presto!